Buonasera e benvenuti a Roma nella sala dedicata all'estrazione del Superanalotto. Chi possiede oggi, sabato 28 febbraio, la ricevuta della giocata del Superanalotto può vincere 5.707.691 euro. Sono già iniziata l'operazione relativa al concorso numero 26. Le 90 sfere numerate per la sestina vincente e il numero jolly sono state caricate e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo raviare l'estrazione di questa sera. Le sfere sono scese nell'urna elettronica e inizia il loro mescolamento automatico. Andiamo insieme a scoprire il primo numero della sestina vincente. Il primo numero estratto è il numero 34. È in arrivo il secondo numero. Il secondo numero estratto è il numero 10. Dal terzo numero si inizia a vincere. Il terzo numero estratto è il numero 56. E in arrivo il quarto numero che ci porta verso i premi importanti. Il quarto numero estratto è il numero 5. Il quinto e penultimo numero. Il quinto numero estratto è il numero 87. Con il sesto numero la sestina è completa. Il sesto numero estratto è il numero 48. Abbiamo i 6 numeri che possono assegnare il jackpot. Passiamo ora all'estrazione del numero jolly per l'attribuzione dei premi di seconda categoria. Il numero jolly di questa sera è il numero 23. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly. 34, 10, 56, 5, 87, 48, il numero jolly e il numero 23. Ora passiamo al numero superstar. Il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente dal terminale di gioco. Già al momento della convide della giocata può far vincere premi istantanei da 5 euro fino a 10.000 euro. E la sua estrazione avverrà grazie a questa seconda urna elettronica già caricata con le sfide dall'1 al 90. E proseguiamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che il numero superstar premia anche lo 0, l'1 e il 2. Moltiplica 25 volte le vincite del 5, 100 volte quello del 4 e del 3. Il numero superstar di questa sera è il numero 40. Ricontrolliamo insieme tutti i numeri del concorso numero 26 del super analotto con la sestina vincente in ordine crescente. 5, 10, 34, 48, 56, 87. Il numero jolly è il numero 23 e il numero superstar è il numero 40. E l'estrazione di oggi sabato 28 febbraio termina qui. Fra qualche minuto scopriremo insieme se il jackpot di oltre 5.700.000 euro è stato assegnato a uno più vincitori. E noi vi aspettiamo sempre qui su Cisal TV, la rete in diretta con la fortuna. Ben ritrovati su Cisal TV, la rete in diretta con la fortuna. Pochi minuti fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincenti del concorso numero 26 che vi ricorda messo in palio il jackpot di oltre 5.700.000 euro. E anche questa sera il super analotto ha numerosissimi premi per voi. Infatti abbiamo 72.681 vincite. Ma ora è arrivato il momento di scoprire insieme se ci sono uno o più fortunati vincitori del jackpot. È il computer. Ci comunica che non è stato realizzato il 6 né il 5 più 1. I 5 sono 8 e vincono 31.372 euro ciascuno. I 4 sono 780 e vincono 330 euro ciascuno. I 3 sono 30.837 e vincono 16 euro ciascuno. Ora passiamo a sottestare il numero stella che moltiplica le vincite del 5, del 4 e del 3 ma premio anche con 0, 1 e 2 punti. Vediamo nel dettaglio tutte le quote. Nessun 5 stella. L'unico 4 stella si aggiudica 33.032 euro. I 3 stella sono 108 e vincono 1649 euro ciascuno. 100 euro vanno i 1.968 2 stella 10 euro e 13.074 euro 1 stella e 5 euro e 25.905 euro 0 stella. E ora è arrivato il momento di scoprire insieme il jackpot del prossimo concorso. 6.100.000 euro. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi e al Superanalotto vi ho d'appuntamento a martedì 3 marzo sempre qui su Sisa TV la rete in diretta con la fortuna. Grazie a tutti.